I cani che stiamo vedendo sono cani preziosi, si stanno addestrando per diventare cani guida per ciechi Oggi siamo all'Imbiate in Brianza nel centro di addestramento per cani guida per ciechi dei Lions Che cosa c'è dietro tutto questo lavoro? Tantissimo lavoro, addestramento per essere dei cani che un giorno guideranno persone che non possono vedere dove sono, non possono vedere gli ostacoli Indubbiamente ci sono addestramento oggi che dura circa 6-7 mesi, prima i cuccioli nascono all'Imbiate, abbiamo un'angustia con 5 sale parto che li otteniamo fino a 3 mesi Da 3 mesi in poi li otteniamo queste famiglie che si chiamano puppy walker che li tengono fino a un anno di età perché l'addestramento può iniziare solamente a un anno Ormai anche lei è puppy walker e pubblicizza questa pratica in giro per il mondo Assolutamente, per me è stata un'esperienza emozionante e devo dire che quando ho visto la prima volta consegnare un cane guida E vedere quanto è importante per un cieco poter avere questo tipo di aiuto e poter fare una vita normale Ho capito che era importante il progetto e quando ho scoperto che potevo io personalmente contribuire al progetto come puppy walker E quindi tenendo un cucciolo per un periodo di 9 mesi e fare anch'io la mia parte Ho visto quanto importante questo poteva essere per la persona che ne era beneficiario alla fine Ogni anno addestriamo e consigliamo gratuitamente 50 cani guida Siamo a 2.107 cani consegnati dall'inizio del nostro inizio di lavoro Giornata di grandi emozioni, oggi possiamo assistere alla consegna dei nostri cani che hanno raggiunto l'anno di età E a breve inizieranno il percorso addestrativo Ciao